No, no, no! Noi, no! Noi, no, no! Tutta la mia vita, da città, da città, sempre, 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 sempre ho fatto affare. Non gli ho mai fatto altro affare. E ho attaccato veramente affare a 1993, a 17 anni. Ho messo con un amico a piccole e bacche, qui, i miei parenti, i miei zitti. Quando ho guidato a scuola, mi piacciono le pecore, ma la mia passione è la più forte della mia capra. E me ne comprono una banda di capra, i miei parenti e i miei zii, e così che ho smarrato. Travalliamo in famiglia, ho sempre lavorato in famiglia. Ho avuto pochi anni che ho lavorato solo. E' una passione. E' la quant'è che ho abbandonato. E' un po' di coraggio. Prima c'erano tre persone che stavano qui. In anni 70 erano tre in guerra. Dopo l'estate, c'erano un po' più di persone che venivano in vacanze. Sono scambiati i luoghi? I luoghi sono scambiati. Prima c'erano quattro case. C'erano ben parecchie. E questi scambiamenti come giudicate? Sono buoni per voi o un mico? Certi sono della mia famiglia. Abbiamo costruito molti sui terreni. Sono della mia famiglia. Tutto ha fatto normale. Certi sono persone che sono giunte, che hanno venduto. Un cliente della mia famiglia che hanno venduto. E sono giugnitici. Allora ci sono chi. Quando è giugnini sono bravo. E poi dopo. In prima tempo, noi non delle ragni, ne ho controllato. E poi dopo, due o tre anni dopo, non ci sono scambiati. Ma bene. Più o meno. Bita paesani in Pèvani, Balcò Sarati passata frenesia di l'istatino in un paese stesso di Galcatodio e luoghi di Agomona sono assai scambi. Tanto, la Municipalità proa di trovare la soluzione a questo fenomeno, creando spazi di spartire. Un'episca, un commercio di proximità, un luogo di rencontra. C'è un piccolo caffè per che i bambini per che i bambini con i bambini con i prodotti di prima necessità. Allora, direi di gare, di accroire l'attractività del villaggio di Calcatodio è qualcosa di molto importante. Perché l'ultimo, l'ultimo, se dote bene che ci sia a lui-même con l'attractività alla lì. Per quanto, Calcatodio, l'hiver, c'è bisogno di questi lieuti? E' bisogno di questi lieuti. On l'a visto l'uverture uniquemente del parco. Poi, le mardi, il mercoledì, c'è sempre dei bambini con i bambini con i bambini con i bambini con i bambini e c'è qualcosa che, un po' di anni, c'è un po' perduto che noi, c'è vero l'hiver. Un po' di più, l'utero se suifia a lui-même e c'è vero che l'hiver ho manco di point dove le persone del villaggio possono ritrovare. E c'è ciò che abbiamo voglio mettere in avanti con il commercio. fare a presse balcò con l'inverno una sfida realizzata con i gomersi e l'attività sociale. Un'ecca così che si può dare a tena e un team paese.